Laurette nacque a Surabaya, sull'isola di Java, in Indonesia, nel 1955, all'età di 4 anni, lei e i genitori si trasferirono a Utrecht, nei Paesi Bassi, città in cui è cresciuta. Frequentò il liceo Mulo Regentes School di Utrecht e in seguito la Artibus Articolo School, sempre di Utrecht, dove si specializzò in alta moda. Durante la prima metà degli anni 70 lavorò come indossatrice d'alta moda nei Paesi Bassi e Belgio, e comparve in molte riviste di moda olandesi e belghe. Nel 1975 si trasferì definitivamente a Roma, dove comparve in alcune riviste per adulti tra cui Playman, che le dedicò a 5 copertine. settembre 1973, marzo 1976, maggio 1976, novembre 1976, aprile 1977, Laura Jameser esordì nel cinema nel 1974 interpretando il film Amore e Libero Free Love, diretto da Pier Ludovico Pavoni. Fu il suo primo film e per avere l'opportunità di girarlo si trasferì appositamente in Italia. La pellicola fu poi girata alle 6 celle e consacrò la Jameser come attrice del genere. Esotico erotico, nella pellicola, ambientata nei Caraibi, Jameser interpretò la parte di una indigena coinvolta in una storia d'amore con l'ingegnere. Italiano Francesco Ferrero, interpretato dall'esordiente Enzo Bottesini, giunto sull'isola per aprire una miniera d'argento. Nonostante il titolo del film Amore Libero è la trama che racconta delle relazioni sessuali. Sull'isola in cui appunto vige promiscuità. La pellicola è abbastanza casta con sfumature nei momenti più sensuali.